Sto cercando lavoro? La campagna della città sono tra le 500 e le 600 unità gli stagionali che raccolgono uva o pomodori senza un conforto fatto di casa e servizi che mancano perché vivono accampati sotto alberi e rami. Serve una mano concreta anche da parte delle istituzioni. Da tempo io ho sollevato questa questione sia in prefettura sia in regione sia con le varie amministrazioni locali però non ho mai ricevuto una risposta strutturata. Quello che serve è un tavolo tecnico costante su queste questioni affinché si possa organizzare per tempo anche l'accoglienza dignitosa per queste persone. Tenendo conto che questi ragazzi lavoratori stagionali, alcuni regolari, altri irregolari vanno a lavorare presso le nostre aziende agricole locali e per legge anche i datori di lavoro devono garantire vitto, alloggio e trasporto. Quindi c'è un sistema anche di illegalità diffuso nel nostro territorio dove non ci sono controlli e i ragazzi naturalmente vengono totalmente sfruttati. Qui ci sono coperte, abiti e biancheria ma sono offerti anche pasti e docce per dare un senso di familiarità a chi vive in strada. Qui è la casa della carità dove gestiamo sia la mensa che è aperta durante l'anno, ci abbiamo un centro d'ascolto diocesano più altri servizi da cui partono anche gli aiuti per Borgo Tre Titoli, abbiamo un servizio docce, distribuzione medicina e anche abbigliamento. Servono anche delle persone che ci aiutano poi a gestire un po' i servizi.